ciao a tutti da me e da rosettino molto bene allora eccoci qui con l'ultimo colore rimasto nei pigmenti che avevo a disposizione perché ricordiamoci abbiamo fatto tutti questi colori qua insieme solamente con i pigmenti che avevo senza mischiarli io e facendo appunto facilitandomi no ho voluto fare tutti questi video appunto facendoli solo con i pigmenti che avevo senza mixarli con altri colori molto molto bene allora oggi siamo qui col grigio allora avevo solamente due pigmenti grigi uno appunto pigmento l'altro ombretto sembrano puntare molto sul nero infatti sono molto scureggianti ma sono assolutamente grigi ho fatto sei bicchieri o cinque non mi ricordo con questi due pigmenti facendone magari un bicchiere con più polverina uno con meno polverina uno mixandoli e così via e vediamo un po' che cos'è successo però ovviamente io vi ho chiesto che colore volete vedere la prossima volta e Martina mi ha detto il grigio Laura Bonuccelli il grigio Lady K il grigio e Verusca Picinelli il grigio e io ho fatto il grigio ovviamente perché era l'ultimo colore rimasto molto bene adesso si cambiano un po' i giochi perché per la prossima volta sceglierete sempre voi sceglierete nel senso voi scegliete e quello che avrà più punteggio io lo faccio quindi io non deciderò un bel niente e vi faccio vedere ogni settimana vi darò tre tre come si dice opzioni ok saranno diverse non saranno sempre uguali e voi dovete votare quella che volete scrivere quella che volete potete scrivere anche due tre bla 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 quello che avrà più punti lo farò e così via e adesso vi faccio vedere quelli che ho pensato per la prossima volta allora buio vuol dire quelle che si illuminano al buio quindi tutte creazioni con pigmenti che si illuminano al buio adesso non si può parlare galaxy o colori pastelli pastello chissà chi vincerà qua secondo me qua secondo me so già chi potrà vincere però scegliete quello che vi piace di più molto meno ho parlato per due minuti non so se si è capito quello che ho detto però va bene cominciamo subito allora eccole qui non c'è il cuore solito ma ho portato questo e direi di vederlo subito tac allora questo stampo proviene da non so se vi ricordate che avevo la scatola cuore corona e luna ho preso i tappi per farci delle creazioni normalissime e adesso vediamo un po' allora lo stampo non è perfettissimo però chi se ne frega oh che bello questo sembra veramente galaxy se ci fosse stato qualche altro colore però ecco questo qua scintillante per esempio è l'ombretto invece quello con i grumini è l'alto grigio che è un bel po' scuro però è sempre grigio io non ci posso fare niente mi piace veramente molto un po' effetto nebulosa effettivamente ed è tipo un piattino una ciotolina bellissima bellissima poi ovviamente non vi preoccupate ho portato le cacchine e ho fatto anche la mia zampina ci sono due stampi oltre questo che non utilizzavo da un po' ma li vediamo dopo ora vediamo la coda della sirena qua ho semplicemente fatto uno scuro e uno chiaro effettivamente con solamente due pigmenti non è che avevo una vasta scelta di combo una volta che ne fai uno un po' più scuro uno un po' più chiaro e un po' li mixi un po' più chiaro e un po' più scuro poi non si può fare nient'altro tutto ciò che potevo fare io l'ho fatto questo stampo come potete vedere ci sta un po' abbandonando quindi facciamo piano piano di dai ok vediamo molto bello oh qua si vede abbastanza che è grigio qui la situation anche qui dai molto molto bella dovrebbero venire creazioni molto molto eleganti secondo me perché il grigio secondo me è un colore essendo un colore nero ci sta molto molto bene dappertutto infatti ho voluto fare questo piattino qua perché ci sta veramente bene con tutto secondo me poi vediamo questa questa l'ho fatta alla fine con tutto ciò che era rimasto quindi non so se si vedrà qualcosa di particolare però si vede che dondola ok questa oh ma che bella che è ma se dal telefono riesco a farvi vedere si guardalo ok non so se vedete ma qua e qua ci sono molte sfumature è molto molto bello allora sto guardando anche che dal telefono è molto più scureggiante la situation che dal vivo dal vivo è un po' più chiaro ok molto molto bella si può anche tenere così che sciccherina che sciccherina poi guardiamo Cornino che in Cornino ne ho messi 1,2,3,4,5 pigmenti ho messo anche Cornino ci sta abbandonando vedete che è tutto come si dice bombato un po' caccia però finché resistono io li uso vediamo togliamo qui ma che bello oh che bello questo grigio qui questo mi piace molto no questo è un pezzo di stampo però da dove vieni porcaccia vada qua ok dai ci può ancora stare molto molto carino Cornino bellissimo poi vediamo il teschio qua hanno messi 1,2,3 e lo vediamo subito vediamo oh che bello anche questo sembra che c'è il pigmento qua scuro che va a scureggiarsi e poi qua questo grigio che mi piace tantissimo questo wow molto molto bello sembra quasi nero come continuo a ripetere ma forse mi dà proprio questa impressione è molto particolare il fatto di tutte queste sfumature però tutto grigio lo ripeterò fino alla fine è tutto completamente grigio molto bene poi passiamo alla tartarughina praticamente ho fatto due ciotoline il cuore e la tartaruga vediamo un po' tic 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 e tic e tic e tic allora vediamo oh molto molto bella mi piace moltissimo che qua c'è tutta la parte più scureggiante e invece qua c'è tutta la parte più chiara vedete ho cercato proprio di fare questo effetto ed è stupendo che bello poi non so se vedete ma è tutto tipo perlatoso qua vuol dire che c'è l'ombretto dentro bellissimo veramente veramente sciccosissimo oh mi piacciono un sacco queste creazioni ero un po' preoccupata ora vediamo questo gufo che ho fatto di tre pigmenti mi sembra vediamo sembra un po' un gufo muccato esatto oh mi è volato bellissimo questo gufo muccato è bellissimo penso di averne usato uno due qua c'è un terzo e poi qua no uno due tre sì tre pigmenti molto molto bello questo gufino muccato molto bene poi cosa rimane due cacchine e due zampine senza averlo fatto apposta mancano due e due quindi facciamo cacchina zampina cacchina zampina o zampina cacchina zampina cacchina zampina cacchina mi stavo perdendo ok zampina qua ho messo più scuro e più chiaro e poi ho anche al stesso che ci sto pensando dovrebbe esserci tre pigmenti qua dentro se non sbaglio questo stampo ci sta abbandonando anche lui porcaccia la miseriaccia fatemi levare qui anche qui no guardate è pieno di stampo no non va bene così tac oh guardate che bello qua così qua così e qua così bellissima questa zampina veramente molto molto bella beh l'avevo detto che su alcuni pigmenti li volevo fare ma rischiando un po' perché appunto avevo uno o due pigmenti quindi però dai per il momento mi stanno piacendo veramente un sacco quindi continuiamo con questa cacchina vediamo che bella guardate qua in mezzo tutto perlinoso e poi qua invece un po' più grumoso bellissima questa cacchina che sciccherina che sciccherina molto bene poi ora è il momento della mia amata zampina vediamo un po' come l'ho fatta come è uscita non come l'ho fatta non mi abbandonare tu stampo tu resisti fino all'infinito perché mi hai dato un sacco di soddisfazioni allora prometteva un po' un po' di più così così vediamo bellissima non è uscito l'effetto perché non lo so io ci ho provato insomma non lo so sono un po' indecisa oggi sulla mia prefe però poi vediamo poi vediamo ora comunque bellissima mi piace un sacco e ora finiamo con la cacchina che non è messa a fuoco eccola qui forse sì vediamo un po' come è uscita questa cacchina ok praticamente le ho fatte uguali come è possibile aspettate ma sì praticamente questa è un po' più pesante in mezzo invece questa è un po' più però sono bellissime bellissime molto molto bene perfetto quindi queste sono tutte le creazioni che che ho fatto con il grigio molto molto bene pomettino ti piacciono sei soddisfatto sì per favore pomettino dimmi qual è la tua preferita la tartaruga sì bravo pomettino questa è veramente incredibile invece questa volta vi dico questa perché mi ha colpito molto mi è piaciuta veramente tanto tutto questo effetto qua sembra quasi una nuvola quando deve fare il temporale ok per farvi capire molto molto bene quindi mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di queste creazioni se avete voglia qual è la vostra preferita e scegliete una di queste cioè queste opzioni qua avete scegliete quello che volete quelle che si illuminano al buio quelle galaxy o colori pastelli colori pastello avete capito molto bene io intanto vi ricordo instagram link amazon journal info box very very well pomettino saluta bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ciao